Non importa a chi toccherà piangere tra due ore, tanto se non è oggi è domani, non ha importanza. Quello che conta è che oggi loro devono essere la Nigeria, ognuno di loro devono saper essere il Camerun. Nigeria e Camerun per una notte sono loro. Intanto Victor Ozyman va a prendersi un'altra palla, il solito Victor Ozyman. Adesso da dietro il Camerun, Ozyman riesce a prendersi questo pallone, giganteggia. Ozyman lì vicino in carta all'assist Fabrizio Ndua, la lascia scivolare in porta. Ora è tutto valido, ora è tutto merito di Victor Ozyman che non segna ma fa tutt'altro. Con Annusa pericola, accelera, va a giocarsi questo uno contro uno, vince di fisicità. Poi è stato molto molto bravo ad alzare la testa e si avviene un giocatore che praticamente andava dalla porta che ha rischiato anche di sbagliare questo gol. Lucman la tiene in campo, Victor Ozyman dentro per Simone. Lucman che treccia offensiva, l'hanno toccata tutti. Lucman dall'altra parte per Aina, in scivolata. Tolo Nou, la partita non finisce qua. C'è anche Iwobi, Lucman tocca e poi scappa. Calvin Bassey, trovato lo spazio, dentro raso. Terra per Lucman che trafigge ancora una volta Fabrizio Ndua. Ora sì che è finita, ora sì che prendono il volo le aquile, sta tremando la Nigeria perché sì, sono quarti di finale. Qua grandissima azione di Lucman che punta l'avversario perché vuole andare in porta. Giù la musica, ai quarti di finale ci va la Nigeria.